Buona serata, buona serata a tutti, buonasera, grazie per essere qui. Devo dire che quando mi raccontavano di questo evento si facevano dei numeri che sono aumentati notevolmente e quindi mi fa piacere perché vuol dire che avete apprezzato l'idea e che soprattutto vi piace stare in questa grande famiglia perché questo è proprio poi il senso, il senso anche della serata perché io conosco da poco la famiglia Bellia, conosco da poco questa azienda ma mi piace parlare di famiglia e poco di azienda, poi si sa, è ovvio, è un'azienda però dico mi piace parlare di famiglia perché la sensazione che si ha quando si entra qui da Ornella Bellia è quella di essere accolti come parte di una famiglia e quindi ci si sente subito a proprio agio ma ci si accorge già dal viale, io alle volte forse sono un po' sognatrice, forse nonostante l'età insomma sogno ancora quindi già il viale d'ingresso che è così, sembra quasi quello di un film in cui tu entri, ti senti importante e poi lo sei perché poi ti accolgono e ti fanno sentire importante, una famiglia davvero unita, una famiglia che è arrivata credo alla terza o quarta generazione ormai per quanto riguarda questa attività, è partita col nonno Aurelio insieme, beh insomma non Aurelio parliamo di oltre 70 anni fa, poi dopo è arrivato Giovanni, Giovanni insieme ad Assunta che è qui e che sorride perché i ricordi naturalmente ci sono adesso Assunta dopo aver lavorato tanto sta a guardare, sta a guardare Ornella e non solo Ornella perché Ornella è la terza generazione ma insieme ad Ornella c'è già la quarta generazione che è rappresentata da Andrea Andrea che è da qualche parte, però mi ha detto Andrea ti prego lascia parlare la mamma perché è lei la vera protagonista della serata, Ornella insieme a Patrizio naturalmente che è il marito ti lascio ancora un attimo decantare Ornella, ok? però voglio dire una cosa, poi c'è Matteo, ma Matteo talmente giovane, talmente giovane che Andrea mi ha detto, Matteo però non ha questa passione, sai Franca mi fa, lui farà sicuramente qualcos'altro perché lui ha altre passioni e proprio in merito a questo io ho chiesto ad Andrea, ma senti tu ti sei trovato all'azienda vivere in un'azienda, no? In un'azienda vitivinicola come quella della mamma, quindi a questo punto quando tu sei diventato grande hai dovuto scegliere di far parte dell'azienda quindi di lavorare all'interno dell'azienda e lui invece mi ha detto no, assolutamente no, io ho scelto di lavorare in questa azienda perché? Perché gli ho detto, ma allora questa passione, perché avevo la passione mi piaceva, no? Ma la passione allora chi te l'ha trasmessa? e lui mi ha risposto, me l'ha trasmessa il nonno mentre mi faceva visitare la cantina gli ho detto, ma da dove arriva sta passione? Eh, nonno Giovanni, io con lui ho trascorso tanto tempo lui mi portava in vigna, mi portava in cantina mi faceva vedere come si fa il vino mi faceva vedere, vedi questo grappolo e mi spiegava tutte le caratteristiche di come sarebbe potuto essere questo vino dal grappolo e lui mi sono appassionato ecco, quindi e ho voluto assolutamente far parte dell'azienda mio fratello invece è più giovane, ancora piccolo forse deve ancora decidere cosa fare nella vita ha tutt'altra passione c'è stato un cambio di programma c'è stato un cambio di programma ieri sera mi ha detto che un po' alla volta si appassionerà bravo Matteo però non credo che sarà forzato, no? no, assolutamente ma la passione viene col tempo non si può volere subito sapete, è vero, hai ragione sapete cosa ha di bello Andrea? Andrea, tu gli parli di vino gli parli di uva gli parli di vigna e lui si illumina lui si illumina è proprio la sua vita e nonostante la giovane età quanti anni hai Andrea? 27 27 ecco, ha 27 anni si ha voglia di andare in giro con gli amici lo farà anche perché insomma il tempo poi lo troverà e viaggiare e invece lui ha questo grande senso della responsabilità che lo porta a curarsi dell'azienda prima del bisnonno poi del nonno della mamma insomma da mamma e papà e adesso poi diventerà la tua azienda la vostra azienda magari se il tuo fratello effettivamente vorrà ma lasciamolo crescere ancora giovane non parliamo di lavoro adesso a lui che deve studiare vero Matteo? sì ok, credo che la mamma abbia un attimo decantato l'emozione e quindi la possiamo chiamare cosa dici? mamma, papà eh? quindi Ornella Patrizio dove sei? Patrizio ti sei nascosto? vieni qua eccoci qua eccoci Ornella Bellia Patrizio grazie intanto per l'invito per avermi invitata a questo evento che secondo me è bellissimo e sarà eh no è l'onore per me e soprattutto sono convinta che sarà il primo di una lunga serie quindi complimenti davvero vogliamo fare un saluto a tutte queste persone che sono qui stasera Ornella beh, sono veramente contenta di avervi qua tutti non pensavo è stato un pensiero di mio figlio e l'ho anche un po' richiamato ogni tanto perché però sono veramente contenta bene Patrizio beh è un grande onore avervi tutti grazie, grazie, grazie grazie il senso della famiglia io l'ho visto anche perché il senso della famiglia nella serie tutti fanno parte della famiglia anche chi non è figlio fratello nipote perché anche le persone che lavorano con voi si sentono parte di una famiglia perché voi siete consapevoli del fatto che l'unione faccia la forza giusto e che quindi se abbiamo successo lo abbiamo grazie anche a tutte le persone che contribuiscono quindi anche dipendenti collaboratori vero Andrea? sì allora diciamo che i primi a crederci quotidianamente sono proprio i nostri collaboratori e ci credono quotidianamente in un nostro sogno in un nostro percorso che non è soltanto quello di parlare di un'azienda di vino di un'azienda vitivinicola ma è anche un percorso in cui vogliamo parlare di territorio ma anche vogliamo parlare essere vicini alla gente del nostro territorio e quindi Franca permettimi perché magari ho detto mi emoziono e mi dimentico qualcuno allora il bigliettino ce l'ho ok te lo tengo io allora io questa serata è soprattutto dedicata anche ai nostri collaboratori e parto col primo vorrei che si alzino se li faccio venire qua ci mettiamo troppo Tarcisio alzati grazie Tarcisio Giuseppe quelle sono le nostre colonne portanti Elio dove è Elio? dall'Argentina Antonio il nostro enologo dove sei Antonio? Christopher il nostro coordinatore degli ordini Matteo Matteo il nostro futuro è appena arrivato Enrico Enrico fa ancora l'università non vuole decidersi di venire qua a lavorare con noi e adesso inizio con le donne Paola la più giovane ma la più vecchia che è qua con noi da più di qualche anno Alessia la nostra amministratrice Jessica eccoci qua marketing amministrazione un po' di tutto perché noi siamo un'azienda piccola e dopo c'è con noi anche Tiziana e Daniela dove sono Tiziana e Daniela? che nei momenti difficili vengono sempre a sostenerci beh ecco voglio fargli un grande un grande ringraziamento perché su una piccola azienda tante volte no? ci guardiamo anche storto certe volte no? dopo ci teniamo il muso però il giorno dopo ripartiamo sempre con la stessa forza e il stesso sorriso è proprio questo che dobbiamo continuare ad avere cioè i valori di sapere esistere di andare avanti e di raggiungere certi traguardi ecco questo si ottiene anche con una giornata di bronzo ma dobbiamo continuare a percorrere questo percorso bravo Andrea l'ottimismo allora io so che voi avevate invitato anche Luca Zaia perché insomma è il governatore di questa regione Luca Zaia non è potuto venire allora io adesso metto gli occhiali se no non riesco a leggere però ha scritto una lettera e dice come già anticipato dalla mia segreteria purtroppo non potrò partecipare alla prima edizione di Pensiero d'Amore a causa di concomitanti impegni istituzionali plaudo all'iniziativa promossa dalla vostra azienda Vitivinicola in collaborazione con l'istituto alberghiero Lepido Rocco un'occasione per conoscere la nostra tradizione culinaria ma anche il primo vino passito ottenuto con uve di incrocio Manzoni 6.0.13 poi ci sarà Cristian che ci racconterà ci spiegherà che cosa significa il titolo della serata che ricorda una canzone di Mal che salutiamo perché è qui con noi questa sera è quanto mai appropriato per definire un progetto di sostegno alle iniziative della Casa Famiglia di Premaggiore anche di questo parleremo poi un gesto solidale vale più di mille parole i veneti sanno cosa significa solidarietà e l'aiutare il prossimo un valore che è stato tramandato dalle generazioni passate che ancora oggi caratterizza la nostra gente concreta e capace di importanti manifestazioni di bontà nell'augurare il miglior successo dell'incontro desidero porgere il saluto della regione Veneto e mio personale a tutti i presenti cordialmente il dottor Luca Zaia bravo io stimo molto questo uomo bene io adesso ragazzi vi congederei cominciamo la serata cominciamo la serata grazie grazie davvero alla Famiglia Bellia che ritroveremo naturalmente durante il corso della serata perché adesso prima di incominciare a servire il primo vino che sarà quello dell'antipasto appunto concediamo concediamoci anzi un po' di serenità proprio con Elena e Alessandro Elena al violino e Alessandro al pianoforte che ci suoneranno il primo pezzo della serata grazie grazie a tutti 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 scuola alberghiera Lepido Rocco inizieranno a servire il primo vino che sarà il vino dell'antipasto e io allora a questo punto devo chiamare qualcuno che di vino se ne intende davvero perché io purtroppo sono molto ignorante in materia della serie il vino che mi piace è per me buono e credo per molti per molti sia così però insomma quando un vino è buono è giusto che ci sia qualcuno buono davvero ci sia qualcuno che lo sappia spiegare davvero bene abbiamo un giovane sommelier ma giovane davvero ha soltanto 23 anni però quest'anno ad aprile è stato eletto come migliore sommelier del Veneto ma era reduce da un altro premio ce lo racconterà lui è Cristian Maitan ciao Cristian ben arrivato ciao Cristian buonasera allora Cristian dicevo tu sei stato eletto ad aprile come migliore sommelier del Veneto ma provenivi già da un altro premio appena vinto sì allora in verità inizialmente ho vinto il migliore sommelier del Veneto e poi dopo un mese sono riuscito a ottenere il migliore sommelier del Prosecco con il Anomaldobbiadene quindi insomma una bella soddisfazione considerando che hai solo 23 anni sì esatto sì 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 mi sono dato da fare da subito insomma ma si vede che c'è la passione anche da come ti poni senti adesso noi presenteremo come primo piatto vedo che i ragazzi già iniziano a servire il vino come primo piatto un girello di vitello cotto a bassa temperatura con verdure all'agro salsa bernese e cialda croccante che vino viene abbinato a questo piatto e soprattutto perché raccontaci allora abbiamo scelto l'incrocio Manzoni questo vitigno questo vino unico nato per l'appunto da un incontro da un incontro tra il pino bianco e il riesling renano questo incontro vogliamo è stato creato da Luigi Manzoni siamo negli anni 30 e nonno Joe che è il nonno di Andrea come mi raccontava è stato uno tra i primi in zona a impiantarlo in questo vitigno sperimentale erano iniziali anni 80 giusto Andrea? perfetto era il 91 l'anno di nascita giusto? allora abbiamo deciso di abbinare questo vino perché nelle sue doti di freschezza di importanza aromatica di struttura di avvolgenza ben rispecchia il piatto il piatto che è un piatto di una buona importanza di una elevata importanza c'è il vitello c'è la salsa bernese questa classica salsa che gli dà sensazione di grassezza di untosità sensazione sferosa in bocca morbide e quindi ci serve un vino che sia tagliente verticale che ci dia pulizia in bocca e che finisca allo stesso momento che finiscono le sensazioni del piatto Cristian tu ti definisci un uomo di sala è vero? eh beh sì prima di tutto prima del sommelier io sono nato in mezzo ai tavoli quindi mi sento più un uomo di sala che insomma è vero perché insomma tu sei come dici nato in mezzo ai tavoli il ristorante il ranch si chiama sì il ristorante nuovo ranch il nuovo ranch è quello della tua famiglia esatto esatto quindi già da bambino ero lì che rompevo un po' le scatole tra un tavolo e l'altro quindi anche nel tuo caso è stata una passione tramandata non ti sei trovato a dover fare quello che fai sì è stata una passione tramandata assolutamente però a me piace non mi sono sentito obbligato anzi anche perché queste cose come quelle di Andrea come quella della famiglia si fanno solo se c'è davvero passione è vero grazie Cristian ci vediamo dopo naturalmente e adesso insieme al vino fra poco verrà servito anche l'antipasto e ogni tanto un piccolo break per ricordare naturalmente i vini che verranno presentati in questa serata e per conoscere altre persone che stanno partecipando a questa serata anche perché gli argomenti gli argomenti sono sicuramente vari e vanno a sottolineare andranno a sottolineare ancora una volta l'attaccamento della famiglia Bellia al territorio e a ciò che appartiene anche al territorio a quello che si fa nel territorio extra extra cantina o azienda vitivinocula questi ragazzi sono stati velocissimi e bravi sia nel osservire nel servire il vino e l'antipasto sia nello come direbbero così in gergo molto di territorio sbarazzare quindi sparecchiare togliere subito i piatti sporchi e via dicendo loro sarebbero già pronti per servire il prossimo vino il prossimo piatto ma a proposito di loro io vi dico state fermi ancora un attimo ragazzi perché perché io voglio conoscere la professoressa nonché dirigente scolastica della vostra scuola Nandina Ostan eccola qua qua vicino a me Ostan scusi scusi Ostan è vero Nandina Ostan signori allora parliamo della scuola la scuola naturalmente della sede di Blessalia di Pramaggiore perché sappiamo che questa scuola ha anche altre altre sedi allora qui abbiamo un sacco di ragazzi vostri che fino adesso posso dirle una così una piccola cosa con emozione ma sono stati precisi e bravi e io capisco la loro emozione la capisco perché sono ragazzi piccoli giovani addirittura di prima non solo di terza alcuni di terza ma addirittura alcuni di prima allora professoressa ci racconti di questa bella realtà qui vicina a Pramaggiore proprio allora buonasera a tutti io sono la coordinatrice di questa piccola scuola in termini di dimensioni ma grande realtà che è la fondazione Lepido Rocco della quale porto i saluti da parte del direttore generale dottor Vicentin che questa sera purtroppo non è potuto essere presente però abbiamo qui il nostro presidente il presidente Roberto Zampieri della fondazione Lepido Rocco che è una scuola con una grande storia ha cinque sedi e queste cinque sedi inseriscono nella realtà lavorativa in più settori naturalmente noi rappresentiamo oggi solamente il settore alberghiero da da lavorare a tanti giovani e costituisce il futuro di tanti giovani noi siamo la sede della scuola alberghiera siamo collocati a Blessaglia di Pramaggiore è una scuola piccolina abbiamo sei corsi due classi prime due classi seconde due classi terze e questi ragazzi come vedete stasera hanno occasione non solo di stare in aula ma di stare tante ore in laboratorio e di collaborare tante volte per tante volte in un anno scolastico con questa realtà io direi che questa serata però li sta veramente mettendo alla prova per i ragazzi del primo anno è anche un battesimo qui abbiamo otto ragazzi di prima e quindi vi chiedo di scusare la loro emozione o se commettono qualche errore ma sono di primo anno direi che non c'è assolutamente nulla da scusare anzi è più che mai comprensibile perché in prima praticamente vuol dire aver incominciato due mesi fa e hanno un grande coraggio perché ci vuole coraggio ma di questo noi siamo grati alla famiglia di Andrea la signora Ornella Bellia la sua bellissima famiglia prima Andrea ha detto una cosa importante parlava di famiglia e di chi collabora con voi si sente a casa anche noi ci sentiamo in famiglia quando abbiamo l'onore di collaborare con voi questa collaborazione è nata circa quattro anni fa tre anni fa o quattro anni fa adesso non ricordo il tempo passa troppo veloce e sta crescendo e dà l'opportunità soprattutto ai nostri allievi di crescere volevo farvi notare le divise dei ragazzi di terza sono quelle con il fifi rosso e sono state donate ai nostri ragazzi dalla famiglia Bellia e noi ne siamo veramente infinitamente grati ma per la fiducia che danno ai giovani e questo li contraddistingue ed è un valore proprio queste collaborazioni e la collaborazione con la cantina Ornella Bellia è stata la collaborazione che ha fatto partire il progetto del nostro professor Carbonelli che ecco io invito ad alzarsi quantomeno il professor Carbonelli prendo la cosa che riguarda il professor Carbonelli e che ho lasciato al tavolo ed è grazie Renata davvero grazie davvero eccoci qua perché pesa 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 e allora professor Carbonelli innanzitutto devo dire una cosa quando lei è arrivata questa sera le passo un attimo davanti è permesso lo chiedo scusa anche all'operatore e lei è venuto a salutarmi con un bambino Sandro vero? ciao Sandro allora questo a questo bambino gli ho detto caspita però stasera ti annoierai un sacco perché qua è lunga la serata poi insomma ti stancherai e lui mi ha detto sicuro di sé assolutamente no mi fa assolutamente no perché lui è già appassionato vero professore? tantissimo sì tantissimo e voglio torniamo al progetto ovviamente voglio solo dire una cosa quell'emozione che lei ha vissuto guardando i ragazzi io la vivo quotidianamente l'ho vissuta scrivendo questo libro perché l'ho scritto con loro l'ho realizzato con loro ed è stata un'emozione grandissima questo è molto bello professoressa assolutamente il professore partendo io dico che questo non è un punto di arrivo ma è stato un punto di partenza e sono orgogliosa l'ho detto anche più volte Andrea quando è venuto viene a trovarci e sono orgogliosa perché questo questo libro frutto di passione conoscenza e amore per la scienza enogastronomica è nato posso dire nella scuola di Pramaggiore e ha visto i nostri allievi provare e riprovare e i nostri allievi hanno avuto l'onore di essere parte di questa parte attiva di questo progetto che è il libro del professor Carbonelli che si chiama oltre gli schemi oltre l'immagine perché il professore è proprio questo è tutto ciò che va oltre lo schema didattico oltre l'immagine classica io parlo da un punto di vista scolastico che possiamo avere della scuola perché con il professore i ragazzi si sentono realizzati i ragazzi hanno l'opportunità di capire che la cucina non è più la cucina tradizionale è anche questo ma la cucina è una scienza e come tale va valorizzata il professore sa fare questo io dico sempre che i ragazzi quando hanno la fortuna di incontrare a scuola un grande maestro devono saperlo riconoscere e devono saper trarre da questo maestro tutti gli insegnamenti possibili perché poi il compito di un grande maestro è quello di trasmettere la conoscenza che non è mai fine a se stessa ma vale solo quando viene trasmessa e questo il professor Carbonelli lo fa con i ragazzi e di questo siamo profondamente grati e orgogliosi complimenti davvero perché noi sappiamo che il mestiere insomma del cuoco o del ragazzo che sta in sala è comunque un mestiere di sacrificio bisogna avere questa consapevolezza perché noi siamo tutti seduti qui a tavola tranquillamente e loro qui e quelli in cucina stanno invece lavorando e questo succede anche a Natale ed estate quando tutti siamo in vacanza invece loro stanno al lavoro quindi lo spirito del sacrificio e della responsabilità soprattutto è molto importante Ornella puoi venire un attimo per favore Ornella Bellia ha dato il suo contributo naturalmente come azienda ma anche come persona alla realizzazione di questo libro perché so che a un certo punto del libro c'è la storia che Ornella racconta ed è questo legame forte con la sua terra con la sua azienda ma soprattutto con Giovanni che è il papà soprattutto con mio padre infatti ho fatto una dedica abbiamo fatto un vino assieme sempre a mio figlio Andrea dedicato proprio a lui perché se sono qui adesso è proprio grazie a lui alle sue forze a come lui ci ha insegnato a lavorare ci ha dato proprio lo stimolo di andare avanti e di arrivare è vero e c'è una frase bellissima che disse quando l'avete salutato per l'ultima volta il parroco vero è che tu hai voluto conservare e tenere proprio come come slogan mettiamolo così è una frase bellissima che il nostro parroco ha fatto nell'omelia di mio padre che è la traversata della vita e io l'ho associata a un'altra frase la traversata della vita e la traversata della vite perché sono tutte e due simili come una vita ci mette un tempo per fare il frutto anche mio padre ha messo anni per realizzare il suo sogno certamente e queste sono frasi che troviamo anche sulle etichette di qualche vino vero? soprattutto nel Gio nel Gio che ho dedicato a mio padre questo vino complimenti Ornella professore che dire lei è stato così tanto elogiato dal sua dirigente diciamo che effettivamente io vorrei aggiungere ce ne fossero di professori come lei grazie mi sono rovinato perché devo dargli un sacco di soldi per la presentazione sì beh la cucina è una cosa seria molto seria riuscire a trasmettere questa passione ai ragazzi è una cosa bellissima a volte si parla degli istituti alberghieri come degli istituti di serie B serie C questo non è assolutamente vero gli istituti alberghieri parlano di scienza di enogastronomia l'enogastronomia è un mondo meraviglioso io ho avuto la possibilità di fare questo libro che era un po' il sogno della mia vita ci sono 24 ricette che rappresentano in chiave moderna il mio percorso sono delle foto e delle ricette veramente veramente belle scritte benissimo anche le frasi che le presentano sono un po' il mio percorso e tutto questo abbinato ai vini di Ornella Bellia è stata un'esperienza bellissima è stata un'esperienza bellissima per i ragazzi ed è stato anche un modo per dedicare un libro alla mia famiglia che adoro terribilmente e si capisce grazie professore devo dire che cucinare vuol dire nutrire nutrire è un atto d'amore secondo me amore è anche passione mamma mia tutte parole queste che ricorrono spesso in questa famiglia vero Ornella? vero soprattutto passione ci vuole tanta passione coraggio e passione complimenti professoressa un ultimo ringraziamento perché tre anni fa abbiamo avuto l'opportunità di insegnare i nostri ragazzi in un percorso che durerà spero a lungo che il piatto non esiste solo come piatto ma che esiste solo se è abbinato al vino perché altrimenti è un piatto fine a se stesso e questa conoscenza la stiamo trasmettendo ai ragazzi grazie a voi complimenti davvero perché molto spesso bisognerebbe pensare prima al vino e poi al piatto ad abbinarci è vero complimenti complimenti grazie davvero grazie e prima che i nostri ragazzi comincino a servire il prossimo vino che ci porterà al primo piatto della serata al primo cosiddetto appunto ah scusa io lascio gli strumenti a questo punto alla nostra Elena e ad Alessandro grazie a tutti Grazie Elena Grazie Alessandro Intanto i nostri ragazzi vedo che hanno già servito il prossimo piatto Il primo piatto dopo l'antipasto E qui caro Cristian Io chiamo naturalmente di nuovo Cristian Maitan Perché insieme a questo piatto è stato servito un vino E qui c'è la zucca, c'è lo speck C'è la dolcezza della zucca C'è l'affumicato dello speck di Sauris E poi c'è anche l'amaretto Caspita quanti sapori messi insieme Come facciamo ad esaltarli grazie al vino? Con quale vino e perché? Allora, beh intanto appunto il piatto è molto complesso e molto ricco Abbiamo un insieme di sapori molto interessanti E abbiamo deciso di abbinarlo con il Lison Siamo nel territorio della DOCG Territorio importantissimo per questa uva Il Tokai, l'ex Tokai Che adesso non si può più definire tale E in questa zona dove trova un habitat d'eccellenza Trova uno tra i suoi migliori terroir E nelle migliori espressioni Il Tai ha una caratteristica ben infinita Il finale a mandorlato Questo finale a mandorlato è proprio la caratteristica principale del vitigno E nella sua ricchezza, nella sua densa, nelle sue sensazioni anche minerali Bene equilibria tutta questa parte dolce data dalla zucca E anche la parte aromatica intensa data dallo speck affumicato E ritrova nella sedazione dell'amaretto Quello che va a richiamare questa tipicità del vitigno Quindi è un abbinamento particolare ma molto curioso Ma quanto bravo è questo ragazzo Caspita Complimenti davvero Guardi i premi sono meritatissimi Complimenti Che bella sorpresa sei della serata Grazie Grazie davvero al nostro Cristian Pensiero d'amore Questa famiglia Che produce vino è vero Coltiva l'uva La trasforma Però ci fa capire che Scegliendo un nome come questo Per una serata Per un evento Vuol dire che è un leitmotiv Praticamente Del suo essere Del suo modo di vivere Del suo andare avanti Questo è praticamente una cosa che per loro è assolutamente naturale In questo ci sta anche la parola solidarietà Mamma mia quante cose può significare questa parola Fino adesso credo che comunque in qualche modo l'abbia potuto dimostrare Ma non è solo quello che avete visto ho sentito fino a questo momento perché solidarietà vuol dire essere sì vicino al territorio a chi ha bisogno nel territorio ma vuol dire anche contribuire proprio fattivamente nel vero senso della parola È per questo che io adesso vado ad un tavolo dove trovo Metto gli occhiali se no non vedo Allora dove trovo dove trovo innanzitutto Innanzitutto paola garbo che è responsabile di una comunità la comunità siccomono che appartiene a una cooperativa o no che è legata alla cooperativa sociale il portico onlus Paola buonasera e grazie per essere qui naturalmente Perché dico questo? Perché parlo di solidarietà quando mi avvicino a lei e la leggo in qualche modo alla famiglia Bellia? Noi abbiamo avuto l'onore e devo dire il piacere di conoscere la famiglia Bellia qualche anno fa Quando con i nostri ragazzi abbiamo pensato di costruire un progetto di conoscenza dei mestieri, dei lavori di una volta e del nostro territorio La signora Ornella a cui abbiamo chiesto di visitare la cantina Credo che l'abbiamo capito tutti, sua caratteristica, ci ha anche invitato a cena Ci ha chiesto di rimanere qua, ci ha regalato di tutto E da lì è nata questa amicizia meravigliosa Questa sera poi pian pianino nella frequentazione e raccontandoci le storie Perché noi siamo portatori di storie dei nostri ragazzi Abbiamo detto alla signora Ornella noi compiamo dieci anni Quindi questo è un po' il nostro compleanno L'Ornella ha detto cosa possiamo fare di bello per i dieci anni E loro si sono veramente offerti di pensare a noi Noi siamo una comunità educativa che accoglie ragazzi allontanati dalle famiglie per tanti motivi I motivi non sono mai belli ma le storie che poi nascono da lì diventano direi meravigliose Con Ornella ne abbiamo parlato, li conosce Quindi io non posso che ringraziare per tutto quello che loro fanno nei nostri confronti Grazie, grazie a lei davvero Paola Però a proposito di questo io ho parlato della cooperativa sociale Il Portico Noi abbiamo il presidente qui con noi Che è Daniele, Daniele Dalben Daniele, eccolo qua, benissimo Daniele io so che lei voleva dire qualcosa in merito un po' a quello che ha raccontato anche Paola Garbo Ma anche ad altro Io parlavo prima di solidarietà da parte di questa azienda, da parte di questa famiglia Solidarietà secondo me è uno dei valori di questa famiglia E' d'accordo con me Daniele? Assolutamente sì Noi siamo estremamente grati con Ornella e la sua famiglia Per l'attenzione che sta dedicando alla nostra comunità con il suo pensiero d'amore A questo pensiero noi non possiamo che rispondere con una gratitudine grande E un grazie che viene davvero dal cuore Convinti che quello che loro stanno facendo per noi Ma che è un po' anche lo spirito di quello che noi facciamo ogni giorno per i nostri ragazzi Sia una goccia Una goccia nell'oceano come diceva madre Teresa Ma senza quella goccia l'oceano non sarebbe l'oceano che è Perché gli mancherebbe proprio quella goccia Quindi davvero per noi questa è l'occasione per esprimere davvero una gratitudine Che viene dal cuore Grazie davvero Io Daniele, lei non l'ha detto per delicatezza Io anche se sono entrata un po' in questa famiglia Mi sento quasi parte Però sono ancora un po' fuori Sono ancora un po' esterna Allora io lo dico con più così concretezza se vogliamo Diciamo che la famiglia Bellia ha deciso di dare un proprio contributo Alla comunità e all'associazione Attraverso proprio pensiero d'amore Questo vino che è in bottiglia E poi lo vedrete dopo naturalmente E che praticamente sulla vendita di ogni bottiglia Una parte del ricavato sarà proprio il contributo che viene dato a voi Giusto? Sì Ed è proprio questo segno a cui facevo riferimento Ed è un pensiero d'amore davvero davvero grande Che rende merito a questa famiglia Che ha dimostrato in questi anni Una grande amicizia e attenzione verso la nostra comunità Che è un servizio che si muove dentro un contesto istituzionale Ma nel silenzio e nel rispetto delle difficoltà dei ragazzi e delle famiglie Quindi il contributo che arriverà andrà ad alimentare questo oceano E sarà una goccia davvero significativa Grazie davvero Complimenti per il lavoro che svolgete Io vorrei chiamare Andrea un attimo Perché Posso spostarmi? Eh sì se no ma un avanti e indietro Lei dice ha ragione Andrea Senti abbiamo parlato con la comunità E con l'associazione Con l'associazione del portico E con la comunità Siccomoro Senti Ci hanno parlato molto di questa solidarietà Di questo vostro gesto Che io mi chiedo Da dove nasce Allora diciamo che il tutto è nato Se possiamo dirlo da una serata Da una semplice mangiata di costa e salsiccia Avevamo ospitato qui i ragazzi Appunto della casa Siccomoro qui di Pramaggiore Avevamo fatto vedere loro come si faceva la vendemmia E dopo abbiamo fatto una cena tutti assieme Questo secondo me è stato quello che ha scaturito un po' L'emozione nel vederli E da lì è nato questo appunto pensiero d'amore Ecco quindi da una serata semplice C'è stato qualcosa che è intervenuto in noi Sai cosa ti dico? Che l'umiltà vince sempre E voi ne avete davvero tanta E capisco perché voi siete così amati E perché c'è tutta questa gente E ce ne sarebbe dovuta Anzi molti di più volevano venire Ma lo spazio insomma era quello che era Caspita siamo comunque in tanti E capisco il motivo di questo amore Che vi dimostrano le persone che sono qui Perché è un affetto sincero Il grande lavoro lo fanno loro Loro sono degli angeli custodi Di questi ragazzi Quindi un applauso va sicuramente A tutti i loro collaboratori Noi veniamo dopo Grazie Andrea Grazie davvero anche a voi naturalmente Adesso ho visto che i ragazzi sono Voi siete pronti per servire il prossimo vino ragazzi? Sì? Il vostro professore dice di sì Vero sono pronti per il prossimo vino? Grazie Ornella E quindi a questo punto direi che possiamo proprio partire Con il secondo piatto Allora Christian Maitan Il nostro sommelier pluripremiato Di soli 23 anni Ma capisco perché ha vinto questi premi È davvero bravo 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 E continuerai all'infinito Senti qui abbiamo un secondo piatto Che fra poco verrà servito È Reale di vitello Insuff con carciofo in tecia E zucca flambè Che vino ci mettiamo vicino E perché naturalmente? Allora la parte diciamo di forza del piatto È appunto il Reale di vitello Quindi ci siamo concentrati sul vitello E abbiamo deciso di abbinare il Carmenere Carmenere filo d'erba Che è l'interpretazione appunto Di questo vitigno da parte dell'azienda Nella Bellia Di cui ci sta credendo molto Andrea ma tutta la famiglia Stanno facendo un ottimo lavoro Su questo vitigno molto antico Già citato dal Plinio il Vecchio Nelle sue naturali storie È tipico dell'origine bordolese Importato qui in zona E per molti anni Per molto tempo Ma anche tuttora È stato scambiato per il Cabernet Franc Quindi in realtà tante volte Magari abbiamo bevuto il Cabernet Franc Che realmente in verità è un Carmenere Un vino, un vitigno che si adatta in più versioni Da quella da un calice così in compagnia Un po' più conviviale A le versioni più strutturate Più muscolose Più intense E in questo abbinamento Abbiamo giocato Sul tannino Che va un po' Asciugare Con la succulenza Della carne E comunque in generale Del piatto E poi Sia sull'acidità Ma anche sulla struttura Sono due Il piatto Il vino Hanno due strutture Molto similari Che combaciano E l'acidità Porta pulizia E anche la sensazione morbida E avvolgente Del Carmenere Equilibria Tutto quello che è dato Dal Reale di Vitello Sei incredibile Lo sai? Grazie Senti io farei un gioco con te Lo sai? Ti benderei Ti benderei E ti metterei lì sotto 4, 5, 6 bicchieri Non so cosa fate voi Mangiate la mela? No è l'olio Chi fa la degustazione dell'olio Che mangia un pezzo di mela verde Per sciacquarsi la bocca? Ok E non so Voi cosa fate invece? Eh no Ogni tanto si spezza Con un po' di pane Però sì Di solito Eh sì Ti metterei un pezzo di pane Per cancellare Guardate Lo stanno già proponendo E ti benderei E ti metterei alla prova Ma sono sicura Che ci faresti fare Una brutta figura Perché la faresti tu La bella figura E noi rimarremo Perché noi magari Ti sfidiamo No? Ma perderemmo la sfida Perché la vinceresti tu Ti ringrazio Davvero tanto gentile Sarebbe comunque interessante Ah C'è la sfida Guarda che non si sa mai Prima di sera Qua è che ti si metta la prova Grazie Cristian Ci vediamo dopo naturalmente Abbiamo detto dunque Pensiero d'amore È il nostro filo conduttore È il nostro leitmotiv Praticamente Tutta la sera risuona Questo pensiero d'amore E arriveremo proprio Al pensiero d'amore A capire perché dunque Questa serata È stata chiamata Proprio così È il nostro leitmotiv È il nostro leitmotiv Questo è il momento clou Della nostra serata Abbiamo parlato Tutta la sera Di pensiero d'amore E abbiamo insistito Con questo pensiero d'amore Abbiamo raccontato poco Poi in realtà Se non Insomma quello che Forse possiamo immaginare Tutti Quando si parla Di pensiero d'amore Ma Il vero motivo Per cui questa serata È stata chiamata Pensiero d'amore C'è Non ve ne posso parlare io Naturalmente Per questo chiamo Ornella E Patrizio Con me Grazie Ornella Bellia Patrizio Masat E Prego invece Metto gli occhiali Scusami Ops E invece vorrei Che Nicola Grotto Portasse qui una cosa Allora Nicola Grotto Tutti qui davanti Dovete stare Sì No no Per dare la possibilità Anche a tutti Di guardare Di vedere Per quello Ma voi fate il mestiere Giustamente Allora Nicola Grotto È un artista Un pittore Un autodidatta Voi prima di entrare In questa sala Siete passati Attraverso la cantina Avete visto un sacco Di quadri esposti E sono tutti Di questo Giovane ragazzo È davvero Un talento Un grande talento E Ornella Bellia E Patrizio Due mani aperte Che si tendono Verso il prossimo Che significato ha Questo quadro Buonasera a tutti quanti Intanto Colgo l'occasione Per rinnovare Un ringraziamento A Patrizio Ornella Andrea Tutta la famiglia Che comprende anche I collaboratori Come avete detto voi prima Anzi farei un applauso Per la serata Che è una figata Secondo me Detto questo Ho avuto il piacere Insomma di essere Sì grazie Di essere incaricato Da loro Di creare questo quadro Sarò breve Perché non sono abituato A spiegare i quadri Che faccio Anzi preferisco Che ognuno Interpreti A modo suo Detto questo Ci sono due mani Che rappresentano Un po' La solidarietà Due mani Che nello sfiorarci Vanno a creare Un cuore Che richiama Appunto Il sogno D'amore Presente Poi non svelo Il pensiero D'amore Nello sfondo In basso Ci sono due filari Di vigna Che vanno un po' A scomparire Per richiamare Appunto Per rendere Omaggio Alla cantina Perché siamo qui Grazie a loro I colori Vivaci Un po' Spontanei Le spennellate Spentane Adesso fanno parte Del mio stile E quindi Ci ho messo Del mio In questo senso Basta Mi fermerei qua Mi raccomando Caspita D'altronde Lui non si esprime Con le parole Si esprime Con la pettura E ha ragione Ha ragione Beh signori All'inizio Di questa Stavo dicendo Della puntata Scusate All'inizio Di questa Serata Con Ornella Con Patrizio Con Andrea Io ci metterei Dentro che Matteo Ma è giovane Insomma Però lui conosce Un po' Il senso Della serata E anche il senso Del vostro Lavoro Della vostra vita Che poi diventerà Anche il suo Anche se adesso È molto giovane Però abbiamo parlato Sì di solidarietà Abbiamo parlato Di valori E voi Mi avete Spiegato una cosa Molto importante Che io ho cercato Di raccontare Attraverso la presentazione Iniziale Cioè quella che È vero Noi siamo Possiamo dire Un'azienda di successo Non è essere presuntuosi Insomma Un'azienda che sta lavorando Che ha lavorato tanto Che sta lavorando E che avrà ancora Tanto da lavorare Per raggiungere sicuramente Tanti obiettivi Però tutto quello Che noi abbiamo raggiunto Voi me l'avete detto Tutto quello Che noi abbiamo raggiunto Non è soltanto Grazie alle nostre capacità Al nostro lavoro Ma al lavoro Delle persone Che lavorano con noi Il merito È anche loro E quindi Onore al merito Ornella Sei pronta? Quindi Ornella Adesso io ti passo Il microfono Perché questo È un momento importante Proprio In merito A quello che stavo dicendo Allora Quando abbiamo deciso Di organizzare Questa serata Io ho sempre avuto Nel cuore Di ringraziare Una persona Che ha creduto Nel nostro progetto E che fin dall'inizio Ci ha dato una mano Proprio quando eravamo Piccoli 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 È venuto lì Ci ha come adottati E ci ha aiutato A creare le ruote Di questa macchina Che sono molto importante Perché il carro Un po' ce l'avevamo Il papà Ci aveva dato una mano Però l'importante Era creare Queste ruote Cioè questo commercio E questa persona È Vittorino Eccolo qua Vittorino Livieri? Eh non se l'aspettava Patrizio Ascolta C'è C'è la Ornella Che è molto emozionata Perché lei Mi diceva prima Devi sapere che Vittorino È quello che ci ha Non solo supportati Ma ci ha Spronati Ad andare avanti In un progetto Abbiamo iniziato Un progetto Tanti anni fa E lui era lì Era presente Lui non era Un nostro collaboratore Era un amico Che però insomma Il mondo del vino Lo conosce molto bene E lui ci ha detto Voi dovete andare avanti Tant'è vero Che lui continuava a dirvi Ogni giorno Ogni settimana Ogni mese Allora cosa state facendo? Stiamo lavorando? Questo è vero Lui mi ha detto subito Dal primo giorno È venuto là E mi ha detto Fiosso Va avanti In dialetto Va avanti Che la strada È tutta tua Vai Che sono qua Perché lui ci credeva Lui ci credeva Prima di noi Lui ci credeva E noi Ma cosa mi dice sto qua? Da lì siamo partiti Abbiamo iniziato Tutto il nostro percorso Proprio in merito Al suo input Grazie Vittorino Vittorino venga qua Venga qua Venga dai Venga Venga pure Intanto io chiamo anche Andrea Pensate che Andrea È cresciuto con questi valori In una famiglia con questi valori Una famiglia che riconosce il merito altrui E non si prende tutti i meriti Del successo di un obiettivo raggiunto Di un progetto insomma realizzato Vero Andrea? No no assolutamente Credo che le aziende si fondino dalle persone Io dico sempre Ragiono sul significato della parola titolare e dipendente Tante volte diamo questa parola bruttissima Dipendente a coloro che lavorano Invece i dipendenti siamo noi Cioè i titolari Perché dipendiamo dalle altre persone I nostri collaboratori E Vittorino Ok non è stata una persona che fisicamente era qui in cantina Ma è stato un nostro possiamo dire collaboratore Perché ha vissuto la nostra azienda dall'inizio alla fine Ecco Alla fine Alla fine No 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 non è la cena conclusiva questa Messo in ceppa Comunque ecco ha vissuto l'azienda dagli inizi Grazie E il nesso di questa serata E il nesso di questa serata E appunto che Se adesso siamo riusciti a fare un vino passito Che oltre Che riesce a fare anche della solidarietà E quindi del bene Ok E perché qualcuno all'inizio ci ha creduto Ok Perché all'inizio non si poteva fare Un vino che facesse anche del bene Se così si può Lasciatemelo dire Ecco e quindi se siamo riusciti a creare un'edizione limitata di un passito Che farà quello che abbiamo spiegato prima Appunto Questo contributo di solidarietà E anche grazie a lui Vittorino Non è vero che ho fatto tutto quello che dicono loro Dai Sono stati bravissimi loro Una bella famiglia E non è tutto merito mio Ho dato una mano all'inizio Dai Tutto qua Sono stati loro bravissimi Grazie Bravo Vittorino Aspetti aspetti che adesso Ornella Ornella naturalmente Come riconoscimento vero? Perché questo non è un premio È un riconoscimento Questo è proprio un riconoscimento Che io voglio dare da tanto tempo Dico tante volte grazie a Vittorino Adesso voglio darlo così A me? Sì Grazie Vittorino lei ha sentito il significato Qual è il significato di questo quadro Poi anche lei può aggiungere altre interpretazioni Però queste due mani sono le sue E questo cuore Perché le due mani I due pollici che si uniscono Formano il cuore Quello lì dentro è il suo Quello che lei ha dato a questa famiglia Per raggiungere questo progetto Il pensiero d'amore Complimenti davvero Grazie a lei Aspetta Vittorino Dice Andrea Non sta a andar via Che vuol dire? Vuol dire fermati qua Chiero Abbiamo un'altra persona Da ringraziare questa sera No? Non ti ricordi più? Oh mio Dio Non ce l'ho in scaletta Me lo sono dimenticato Non l'ho scritto Chi è? Aiutami Dimmelo Quello dietro di me? È un pensiero d'amore Ah ma sì Ma questo è un'altra cosa Ah vuoi fare tutto adesso? Subito? Facciamo dopo? Cioè No voi rimanete Congediamo il nostro ospite E anche il nostro artista Ovviamente E voi rimanete qua Perché adesso facciamo il resto Consegna il quadro Che è il suo Insomma è un ricordo Che lui Veramente Terrà Per sempre Poi se lei Vittorino lo vuole incorniciare Lo può fare Ma il nostro artista Non incornicia i suoi quadri Veda lei Veda lei come fare Complimenti 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 a Nicola Grotto Complimenti a Vittorino Olivieri Complimenti a questa famiglia bellissima Che io ho scoperto Ho conosciuto da poco Ma credetemi Avrei voluto conoscervi prima davvero Vi lascio accomodare Perché tengo Posso tenere qui solo Andrea? Sì Benissimo Andrea tu sei giovane Io Con un signore Che laggiù in fondo Ha la barba bianca I capelli bianchi Sembra Babbo Natale Un po' in tono Perché fra un po' Eh farà in giro Il signor Lucio Leonardelli Allora Quel signore lì Abbiamo fatto la radio Io l'ho fatta Molto prima di lui Ecco Lui ci è arrivato Che aveva già la barba Un po' grigia Facevamo la radio Tu hai mai sentito Tu che hai solo 27 anni Hai mai sentito Quella canzone che fa I tuoi occhi sono Faria baglianti Io mi trovo davanti No? No Ma non ci posso credere Sei proprio giovane Parlami d'amore Mario Con questo accento Molto english Te lo ricordi? Inizio già a capire Inizia a capire Ma non sa Non sa Eh? Vabbè Però insomma Io che ho fatto la radio Ho trasmesso un sacco di volte Le sue canzoni E ancora oggi Chi canta le sue canzoni Chi Ma no Non le sue canzoni Chi appartiene Agli anni 60 70 Insomma Quando c'erano Questi grandi cantanti Lui poi Ha scelto Io gli ho chiesto prima Ma non so se lo posso dire Lui ha scelto Perché ha scelto Questo nome d'arte Perché in realtà Lui si chiama Paul Bradley Culling È gallese E arrivò in Italia Negli anni 60 E già facendo delle canzoni Che fecero successo Nel 1968 Un gruppo di cinque fratelli Chiamati Bee Gees In America Americani Bee Gees Vero? Americani Cantarono I've got to get A message to you È acceso Sì è acceso Sì I've got to get A message to you Hai sentito l'accento Eh ma il tuo è perfetto Tesoro Porca zozza Io dico È friulano È friulano È friulano Dice Beh insomma Posso dire perché hai scelto Il tuo nome Ardarte Se lo sai Me l'hai raccontato tu caro Io quando parlo con I miei amici a tavola O anche con lui quando ho parlato Appena l'ho conosciuto Senti io vengo lì Mentre faceva una bella passeggiata Gli ho carpito delle informazioni Mi sta venendo un tocci Sapevo che mi sarebbero saputo Mal Ciao Mal Allora Mal Si scelse questo nome Disse Perché lui ammirava tanto Un cugino Un cugino che si chiamava Si chiama perché c'è ancora Si chiama Malvin Malcom 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 Insomma faceva musica Faceva musicista Lui lo adorava Questo cugino Poi quando Si buttò anche lui Nel mondo della musica Scelse questo nome Proprio per Quasi per Perché io ammiravo Il mio cugino Esatto Proprio il senso di ammirazione Verso questo cugino Allora ho rubato Un po' di suo nome E sì perché poi In Italia in realtà Mal potrebbe sembrare Un po' come Ammagliatore Sexy Figo Adesso dicono così I figli dicono figo Giusto E beh insomma Adesso sei comunque Un gran bell'uomo Però voglio dire Quando Negli anni 60 Infatti Credo che tua moglie Te la sei scelta Bella Giovana Intelligente Mi controllo Ti controllo Senti Mal Allora Dicevamo Nel 68 i Bee Gees Poi tu sei arrivato In Italia E nel 69 Hai cantato questa Che era una cover Poi in realtà Solo che quella dei Bee Gees Nessuno la conosceva Almeno qua in Italia No di sicuro E invece Quando tu hai trasformato Questa canzone In pensiero Amore Negli anni 60 Negli anni 60 Anche prima 50 90% delle canzoni Di successo Erano cover Erano canzoni americane Perché nessuno sapeva Perché non esisteva L'internet Nessuno sapeva Cosa succedeva All'altra parte Dell'oceano Allora I discografici Prendevano i dischi E facevano Una traduzione In italiano Facendo cantare Del loro Begnomino E facevano Un grande successo E nessuno sapeva E dopo tanti anni Quando è arrivato L'internet Che quelle erano Canzoni cover Di una canzone americana Certo però Se non l'avessi cantata tu Questo pensiero d'amore Perché poi in italiano Si è trasformato In pensiero d'amore Non avrebbe avuto Il successo che ha avuto Secondo me No Secondo me no Perché Io non voglio Raccontare Le parole originale La traduzione Posso Perché non è Lo dico però L'originale Canzone Pensiero d'amore Si chiama I got to get a message to you Che vuol dire Devo farti arrivare Un messaggio Le parole di queste canzoni Originali In americano In inglese Parlavo di Un povero condannato Che Doveva essere Rigiustiziato E lui voleva scrivere L'ultimo messaggio Chiedendo perdono Per quello che ha combinato Certo L'ho detto in questo modo Così Se uno faceva una canzone In Italia Negli anni 60 Tradotto con queste parole Non avrà avuto successo Però ho incontrato Un grande paroliere Migliacci Franco Migliacci Migliacci è quello che ha scritto Volare E allora E lui ha inventato Cambiato completamente L'argomento Ha fatto queste parole Pensiero d'amore Che parla di un disco Che Adesso è un vino L'hai trasformato il testo Per la serata Per la serata hai cambiato il testo Sì Se negli anni 60 Franco Migliacci Sapevo Che oggi Avrà avuto un vino Pensiero d'amore Lui avrà cambiato le parole Questo vino È un pensiero d'amore Non ci stava male però Senti Mal Avrà fatto invidiare a Albano però Allora Mal Mal che arrivò in Italia Cantò prima con i Primitives Poi però da solo Fece ancora più successo Oggi ancora canta Perché ancora fa i suoi concerti Ma Devo dire che da un po' di anni A questa parte Tutte cose Tutte notizie Che io ho carpito A tavola Facendoti così Semplicemente delle domande Chiacchierando con te Da dieci anni A questa parte Si diletta nel golf Tant'è vero Che ha costituito Insieme A qualcun altro Di cui tu parlerai Magari Così ce lo dici tu È un'associazione Che si chiama Golf E Musica Golf e Musica No L'associazione Associazione Italiana Di cantanti Musicisti Golfisti Oh ecco Vedi Abbiamo fatto questo Non è importante Che sono musicisti O cantanti Che partecipano Alla nostra associazione Basta che uno Sa suonare Campanello di caso È importante Che giochi a golf Questa è la cosa Importante E tu Hai anche Sfatato Se posso permettermi Perché qui Tu sei da 50 anni In Italia E continui a parlare Con questo accento Sfatato Un luogo comune Guardi questo accento Tutti mi prendono Per i fondoli Per questo accento Per i Per i Per i Per i fondoli Per i fondoli Capito E' fatto è No Sto dicendo questo Franca Franca No Ci devo dire Prima di andare avanti La ragione Che io parlo così È che Se io parlo Perfettamente italiano Nessuno mi inviterà In giro Ma non è vero Allora Io approfitto Eh approfitto Sì approfitto Senti Comunque Tu mi hai anche Sfatato un luogo comune Cioè quello del Giocare a golf Vuol dire Essere ricchi È uno sport per ricchi Perché qua Essere iscritti Ai golf club Avere tutte le attrezzature Vuol dire Spendere migliaia di euro Tu vedi che non è vero Che questa è una balla Insomma C'è chi vuole Spendere un sacco di soldi Perché compri una mazza da golf La golf lo può spendere L'unico problema di golf È bisogno Tempo Tutto il resto è facile Non costa più di tanto Come ho detto Io ho comprato I miei primi attrezzi Secondo mano Ho pagato Deci anni fa Sì E hai usato Quelli Ho speso Non so 300 euro Soltanto E li stai usando ancora Sto usando sempre le stesse Non funzionano E voi andate in giro per l'Italia A giocare a golf E a cantare Certo Andiamo in giro Abbiamo giocato in praticamente Non tutto l'Italia Però piano piano Stiamo largando Siamo arrivati addirittura A Fugi sotto Roma Ah bello In Lazio In Miglia Romagna E dappertutto Tu hai il tempo di giocare a golf Andrea No Io l'ho invitato Io ero portiere Presidente 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 Che vuole fare un omaggio A Ornella Abbiamo alcuni dei nostri soci A nostro sponsor A nostro sponsor Certamente Perché noi abbiamo Parli tu Dai Noi vogliamo ringraziarvi Ringraziare voi Dell'invito di questa sera Ringraziare voi Per la serata di solidarietà E L'animo che avete messo Perché Vedere Tanta gente Ma vedere Questa scuola Che è qui Che serve noi Che di fatto È un'emozione Grazie Scusate Ho vissuto Ho vissuto Un periodo particolare Con una scuola alberghiera Ve lo racconto In dieci secondi Nel 2007 Io dirigevo Ero dirigente In provincia di Treviso E dovevamo costruire La scuola alberghiera Di Lancenigo Abbiamo Siamo partiti Con lavori Con tante difficoltà A un certo momento Una mattina Arrivano i carabinieri In cantiere Ci bloccano il cantiere Io credo Che ho vissuto Trenta giorni Più brutti Della mia vita Pensando Ai ragazzi Che erano Nei container Della scuola alberghiera Con una scuola bloccata Per un vincolo Un vincolo Che il vicino Indicava Come Definitivo Per un mese Abbiamo Lottato In tutte le maniere Per poter riaprire il cantiere Siamo riusciti a riaprirlo Ma credetemi Sono stati I più Trenta giorni Più brutti Della mia vita Comunque Di queste scuole Di queste scuole E voi Che siete Come mi dicevi Andrea Prima Siete parte attiva Di queste scuole Siete da Dovete farvi Di monumenti Per voi Grazie Scusate Ho fatto una Disgressione E Mi è venuta in mente Perché Veramente Mi rimane ancora nel cuore Questa situazione Niente Noi vogliamo soltanto L'associazione Golf e Musica La cantina La vostra cantina Di fatto ci fa da sponsor A quei Sei sette Gare Che noi organizziamo Organizziamo delle gare Il presidente è Mal Il vice presidente è Denis Biasin Noi organizziamo Delle gare di golf Ma con quale intento Alla fine di portare La musica Portare la musica Alla fine Delle gare Affinché Tutta la gente Non scappi E rimanga E rimanga Ad ascoltare Le note musicali E bere Molte bo E bere E bere Del gran vino Di Ornella Belia Cantina Mal Molte volte Dà il suo contributo Proprio Canoro Qualche volta Canta qualcun altro Ma cerchiamo di avere Questo Questo input Qualcosa di diverso Rispetto alla gara Che poi alla fine Finisce con una premiazione Tutti a casa Noi vogliamo Stiamo cercando Di portare qualcosa Vi ringraziamo Per la sponsorizzazione Che ci avete fatto I vostri vini Sono sempre Super apprezzati Vi ringraziamo ancora E Non abbiamo fatto Il nostro Non è un regalo Non dovete pensare Che sia un regalo È una È un simbolo E il simbolo È la nostra Tra virgolette Maglietta Grazie Grazie di cuore Grazie mille C'è ancora il nostro stemma Sopra Che si vede Fatto Grazie Come parli bene Non ti conosco No Hai detto delle belle cose Credo che Non ci si emoziona Solo a tirare calci Un pallone O diventando famosi Ma Ci si emoziona anche Facendo dei lavori Semplici Proprio come Fare i camerieri Fare i cuochi Che non sono dei lavori semplici Sono dei grandi lavori Dei grandi mestieri Quindi Ha fatto un excursus Veramente bello Credo E adesso? E adesso Faccio io? Allora Facciamo adesso Quella cosa Questo signore Che è vicino a me O facciamo dopo? Tu so che devi dare qualcosa Facciamo subito Così Dai che così è contento Perché poi Così Mal siccome so Che deve anche andare So che anche lui Ci farà un piccolo regalo Sto dicendo Che da questa parte Giriamo un attimo Così facciamo vedere Anche da questa parte Perché siamo di spalle Sempre È vero È vero Ci dispiace Scusateci È vero Ok Basta così Giro Allora Ecco Allora Amal Per ringraziarlo Della sua presenza E per Averci ispirato A questo nome Che porta appunto Alla sua canzone Diamo la bottiglia Numero Uno Di questa edizione Perché sono tutte Inumerate Esattamente Bella foto Mi serve Prima che sparisci No Lo metto dentro Un cornisce a casa Lo lascio a mia moglie Così Un attimo Insomma Diciamo che Pensiero d'amore Ti ha portato fortuna Ma ha portato fortuna Anche a questa azienda Io sono davvero Molto onorata Di conoscerla Intanto Un regalino Ce lo fai? Un regalino Una canzone Stasera Voglio No Io volevo 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 cantare Furio Cavallo Guarda che Ti prendiamo Su segno No No Questo è per il futuro Facciamo un vino Furio No scherzo Spero di sì Pensiero d'amore Più bello di così Perché è stato Il mio più grande successo Lo so che molti si ricordano mal Per Furio Cavallo Di questo Però Pensiero d'amore È il mio primo amore Va bene Grazie Ok Allora Pensiero d'amore? Sì Facciamo il cenare così Ho portato una base musicale Cantarò O tenterò di cantare Perché ho bevuto anche io Stasera un po' Bene Non è vero Non è vero Non è vero Non è vero Che hai bevuto Dai Non è vero No non bevo più di tanto Perché devo anche guidare Eh allora dai Mi raccomando E allora senti Il nostro tecnico è pronto con la base? Se vuoi Ti lascio tutto il tempo necessario Ok Facciamo pensiero d'amore Così Ok Stasera Voglio farti un regalo Che ti faccia ricordare Penso a me Penso a me A me Accetto questo regalo Se il mio amore non vuoi Questo a me non vorrai Un regalo non si butta mai via Quando il sole resterà Quando il sole resterà Potrà farti compagnia Questo è il mio pensiero D'amore Per te Per te Anche se non potrà farti tornare Con me Con me Sai le parole Bravo Come passi adesso le tue serrate Dove vai con chi sei? Sei felice con tu? Ma se un dubbio ti riporta al passato Dove sono lo sai Puoi chiamarmi se vuoi Questo disco è il mio pensiero D'amore Per te Per te Anche volte che lo senti sonare Penso a me A me Anche Per te Per te Anche volte che lo senti sonare Penso a me A me Questo disco E ti ero d'amore Per te Per te Anche volte che lo senti sonare Penso a me A me Grazie Mal Allora Gli anni passano Purtroppo Le mamme biancano Meno male che ci fanno la tinta Io me la faccio Lo so che mi hanno chiesto in tanti Allora io Purtroppo Non ho portato la base musicale Allora non posso cantarlo Lo so Vogliono tutti però Allora facciamo Senza rete Senza rete Va bene Aspetta Chi è che rompe là È lui Allora facciamo questo Io lo accenno senza musica Va bene Però mi serve un tempo Batte le mani Tutti così Aspetta un attimo Tocca a me Furi a cavallo del West Che va più forte di un jet Quando fa pieno di fieno Se no non sta in piede Furi a cavallo del West Che beve solo caffè Per mantenere il suo pelo Più nero che c'è Furi a cavallo del West C'è qualcun altro che vuole farlo? Grazie a tutti Avviva pensiero d'amore Grazie Malle Grazie Con la tua canzone Per aver ispirato Anche questa serata Grazie davvero È stato un vero piacere Incontrarti Per tutti noi Per tutti noi È stato un gran piacere Per me Veramente Mi sono debattito Ho mangiato Avete mangiato bene? Benissimo E poi devo dire Che mentre cantavi Pensiero d'amore Anche quei ragazzi là Che sono giovani Non c'erano quegli anni Io sì ma loro no Cantavano con te la canzone La sapevano benissimo Pensiero d'amore Yes E' una di quelle canzoni Che rimane nel tempo Eh sì È vero E tutti guarda Cantavano la canzone con te Sì Quindi complimenti ancora Grazie E grazie per essere venuto Facciino grazie Grazie Mal E adesso E adesso È il momento È il momento Di passare Al dolce Sì perché I nostri ragazzi Naturalmente sono pronti Sono pronti per Portarvi Il protagonista Il vino protagonista Di questo evento Che si chiama Proprio pensiero d'amore Insieme Al dolce Come al solito Chiamo Christian Intanto invito I nostri commensali A sedersi Ecco Perché Christian Christian Maitan Ecco sta arrivando È arrivato il momento Di presentare Il dolce Inteso come piatto Che è una mousse Al cioccolato In salsa Vaniglia E vetro dolce Servito Sul letto Di pan di spagna Bagnato Con incrocio Manzoni 6.0 Punto 13 Passito Pensiero D'amore Ma mi devi anche spiegare Che cosa vuol dire 6.0 Punto 13 Allora Quello che accennavo Inizialmente Era proprio questo Incrocio Appunto fatto Dal preside Dal Luigi Manzoni Che negli anni 30 Appunto Creò Questo vitigno Perché è un vitigno Autotono Un vitigno Della zona Molto importante E soprattutto Che Poche cantine E poche aziende Vinificano Come passito Quindi Quello che Ora assaggiamo È anche Un prodotto Autentico Per Più motivi Ma anche Soprattutto Per la sua Storia Per la sua Unificazione Che è Un po' Atipica Diciamo E Beh È un clone Quindi è l'unione E parlando di amore Come Qual è la cosa più bella Che queste due anime Si incrociano Si incontrano E nasce L'amore L'amore È l'incrocio Manzoni E il 6.03.13 Si rifà L'esperimento Effettuato Che va a individuare Il numero Dell'esperimento Il filare E le uve Utilizzate Aspetta È complicato Ma è affascinante Il mondo del vino Complimenti ancora Grazie mille Vi porto Tutti i saluti Dall'associazione Italiana Sommelier Ice Veneto Da Ice Venezia Siamo ben rappresentati Anche dal Maestro Il mio mentore Graziano Simonella Ma tu sei il più giovane? Un pochino Sei il più giovane di tutti? Quasi Ma sicuramente il più giovane Che è stato premiato Pluripremiato Quello sì Che bello Complimenti Complimenti davvero Guarda Minchino Di fronte A Cotanta Insomma Anche cultura Del vino Davvero Complimenti Facciamo un applauso A Cristian Maitan Grazie Ti lascio sedere E gustare Questo passito Pensiero d'amore E anche il dolce La stessa cosa Naturalmente vale per voi Facciamoli entrare I ragazzi Forza Eh sì Alziamoci Alziamoci E facciamo loro Un bel applauso Bravissimi Straordinari Devo dire Siete stati Perfetti Ragazzi di sala Coaudivati da Steven Mezzuia Che è Mazzuia Che è il professore di sala Immagino Sì esatto Io Vi ringrazio Moltissimo Per Scusate Vi ringrazio Moltissimo Per aver apprezzato Questi ragazzi Che Ci hanno messo Tanto cuore Perché Secondo il mio Punto di vista La professionalità La bravura Sono molto importanti Però il cuore È quello Che fa andare avanti Tutto Quello che riguarda Il nostro mestiere Ma non solo Anche L'attività Dei signori Bellia Che hanno avuto cuore Ci hanno creduto Insomma E questi ragazzi Ci credono Perché ci credono Perché io Assolutamente Insisto Tutti i giorni Tutti i secondi Della mia vita A far sì Che loro ci credano Ok Grazie Bravo professore Lei ha parlato di cuore E noi sappiamo Che il cuore È l'organo Dell'amore E della passione E adesso Caro No beh Io direi una cosa Di questo genere Visto che fra poco Appunto Serviranno il vino E il dolce Io Vi ricordo Che dopo il dolce Per bere il caffè Si va No Lo serviranno Perché non vogliamo Farvi fare strada Ma perché me lo dite adesso Questo Non me l'avete detto Prima Perché in realtà Me avevate detto Che sì Però Dopo All'uscita Ci sarà Liquore alla carrube Prodotto dal ristorante Nuovo Renz E gentilmente offerto Appunto Da Cristian Maitan Ok Quindi dopo il caffè Un bel liquore La carrube Ci sta sempre Una grappa alla carrube La mazza caffè La mazza caffè Bene Allora Io direi questo Visto che porteranno il dolce E poi porteranno il caffè Credo che alcune persone Magari decideranno Di andare Se non riusciranno a fermarsi Anche per la mazza caffè Patrizio Ornella Che dite? Salutiamo adesso Tutti quanti Affinché possano rimanere Fin quando vogliono Però chi vuole andare Magari non si debba sentire Impegnato Che dite ragazzi? Com'è andata la serata Ornella? Bene Sono stata molto contenta E' un po' di preoccupata Ma diciamo che è andata bene Bene Passata Patrizio? Benissimo Bravi Complimenti a tutti Grandi E un grazie a tutti E' stata una bella serata Andrea E' andata Ce l'abbiamo fatta Adesso l'adrenalina scende Perché è chiaro che fino a questo momento Un po' di preoccupazione poteva esserci Ma l'abbiamo detto Questo pensiero d'amore E' il trampolino di lancio Per altri eventi importanti Che voi sicuramente riuscirete A realizzare Perché avete tanti progetti E tanti obiettivi Che riuscirete senz'altro a raggiungere In bocca al lupo Grazie E no Non deve crepare il lupo Viva il lupo Viva il lupo Viva E viva la famiglia Bellia Complimenti a tutti Davvero Grazie a tutti Per aver partecipato Grazie Applausi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti